Ora voltiamo pagina, passiamo a parlare di una piccola di Casa Peugeot, si tratta della 108. Giovane, divertente, simpatica, disinvolta, impertinente, trendy, compatta, agile. Queste sono solo alcune caratteristiche della Peugeot 108, la citycar del leone dal design elegante pensata principalmente per il traffico urbano. Il suo possessore può renderla unica scegliendo tra berlina e decapotabile e tra diversi temi di personalizzazione, ambiente interno, numero di porte, colore di carrozzerie. Grazie ai suoi motori tre cilindri, tecnologicamente evoluti, ha consumi davvero contenuti ed emissioni particolarmente pulite. E non è finita qui, perché la Peugeot 108, figlia del proprio tempo, è una vettura interconnessa con il mondo, grazie alla funzione Mirror Screen, che trasferisce al grande touchscreen centrale molte delle funzioni dello smartphone personale del guidatore. Gli equipaggiamenti della Peugeot 108 sono poi tipici dei segmenti superiori, retrocamera, climatizzazione automatica, keyless system per l'accensione senza chiavi e tanto altro ancora, tutto da scoprire. Grazie a tutti!